Il cambio euro-dollaro Il dolar index si muove ovviamente di conseguenza e come si vede è sensibile a questo livello di supporto poco sopra quota 100. Siamo intorno a 100,45, interessante. Possiamo vedere invece le borse, i mercati azionari. Allora è stata una settimana di insegna di un certo ritracciamento, ma non come qua, quando il mercato è venuto giù, pam pam pam, 1, 2, 3 a ribasso. Qui ha fatto un ribasso, diciamo proprio in prossimità dei test dei precedenti massimi, quando si pensava si potesse andare a rivederli. Poi ci sono state tre giornate di, come posso dire, in qualche modo di adattamento a questo segnale di consolidamento. E poi con i dati dei payrolls di venerdì di no, il mercato è venuto giù. E sembrerebbe, insomma, così essere un po' un segnale perché, come si vede bene, c'è debolezza. Avete visto prima le S&P 500 in prossimità dei massimi, soprattutto sui tecnologici che invece non riescono a tornare sui livelli di prima. Ma questo giro anche i titoli del settore, diciamo delle piccole capitalizzazioni, le small cap, quelle del Russell, fanno fatica. Insomma, tutti gli indici americani vivono questa discesa, ma in settimana abbiamo visto anche il DAX andare a fare un tentativo di superare il precedente massimo storico. In realtà, registrando intraday un nuovo livello, poi però siamo tornati indietro e c'è stata, diciamo così, una sorta di movimento a ribasso abbastanza secco, che si è registrato anche sull'Eurostock 600, come vediamo qui, e sull'Eurostock 50, che già risultava più debole. Andiamo a vedere anche come sono andati gli indici asiatici, un po' in ritracciamento Lanseng di Hong Kong, indeciso e più marcato ritracciamento il CSI 300 di Shanghai, che come si vede segue in realtà una linea incredibilmente precisa, non sembra quasi robotico questo movimento. E poi infine il Nikkei, che un po' come nell'occasione di agosto è l'indice che si muove peggio tra quelli più importanti, non quello che ha un'ampiezza di movimento, se possibile ancora piuttosto elevata. Come vanno quindi le magnifiche 7? Beh, non proprio benissimo, come si vede qui, e come dire, altrettanto si può dire per le magnifiche 3. Però vediamo che la volatilità, dopo aver deciso di ritornare a sedersi intorno al valore 15, dopo lo spike enorme fuori scala 65, registrato inizio agosto, però adesso si stanno adattando sopraventi, il che non è uno scenario propedeutico a buoni movimenti di mercato. E va bene, in un contesto dove anche le cripto si muovono verso il basso, come si può vedere qui da Bitcoin, passiamo a dare un'occhiata alle materie prime, dove subito spicca il petrolio che arriva sul supporto, quello dei 67. È vero che c'è un altro livello più sotto, quello dei 64 dollari, che come abbiamo già visto il mercato aveva già testato in passato, però l'area 67 è quella che negli ultimi due anni ha sempre retto. Quindi attenzione a dare un'occhiata a questo, che è un marker dell'economia, così come marker dell'economia è in qualche modo un rame che cerca di consolidare, dopo questa fortissima discesa, due commodity che sono cruciali per l'economia globale e che in qualche modo fanno fatica. Chi invece non fa fatica e in qualche modo però racconta la medesima situazione a livello di tessera di puzzle, è l'oro che come vedete sta consolidando nell'area dei massimi storici, sopra 2.500 dollari l'oncia e in attesa, chissà di un nuovo affondo al di sopra dei precedenti livelli, molto interessante. L'argento continua, diciamo così, nella sua fase di assestamento, poco sotto i 30 dollari l'oncia. Il gas naturale sta vivendo una fase di recupero ma sappiamo che ha un prezzo estremamente volatile e questa resistenza dei 2.28 si sta facendo sentire. Andiamo a vedere invece i rendimenti che sono comunque in discesa, siamo sui minimi di periodo, diciamo così, certamente sui minimi del 2024, è stato fatto un minimo sul rendimento del bond americano, però insomma poi c'è anche una shadow sotto, vediamo come andrà la prossima settimana. Non è ancora arrivato sui minimi di quest'anno il decennale tedesco, quindi situazione europea non proprio uguale a quella americana, anche sul BTP come vedete c'è un trend laterale molto ampio e quest'area poco sopra 3.500 sta tenendo in maniera decisa. Se passiamo invece ad analizzare i cosiddetti ultraventennari, quindi TLT, Treasury Long Term, questo è, diciamo così, significativamente l'ETF di questo settore, noi possiamo notare come qui si stia schiacciando come una specie di triangolo che ha i suoi massimi appena sopra l'aria 100, sono stati ritestati e il mercato è tornato un po' indietro. Ora stiamo a vedere che cosa succederà se vorrà superare questi livelli. Andiamo però anche a fare alcune considerazioni che risultano interessanti. Prima di tutto io mi soffermerei un attimo sulla situazione del mercato americano, perché? Perché se io vado a vedere la gran parte dei titoli del mercato americano, quelli più importanti, trovo dappertutto ovviamente titoli del settore della tecnologia, ma non solo, che hanno grafici che ci raccontano qualcosa, ci raccontano di una fase un po' più difficile che sembra iniziare. Guardate, Apple non riesce a fare il nuovo massimo e ritraccia, per carità, niente di pericoloso per ora, però è significativo, dopo tanto tempo che non si riesca a fare nuovi massimi e non ce la fa Microsoft, che anzi sta disegnando una figura non banale. Attenzione a questo supporto in area 390, lo vediamo qua, quindi molta attenzione. Anche Nvidia è al terzo massimo decrescente, diciamo, in sequenza, quindi anche qui importante. E guardate addirittura Google, che mostra la debolezza andando sotto addirittura il supporto precedente, quindi Google finora il più debole. Amazon resta lì, senza infame e senza lode, Meta è l'unico che rimane vicino, diciamo, a un multiple top, cioè una serie di massimi in fila che non riesce a superare, però quantomeno non ci si allontana troppo. Berkshire, che abbiamo visto, diciamo, lo sappiamo bene, la società di Buffett, quella che recentemente si è preparata come a un trade del rallentamento, vendendo di mezz'altro la partecipazione di Apple, vendendo tante Bank of America, sappiamo le banche sensibili ai tagli dei tassi, e poi, essendo posizionata su titoli tipicamente anticiclici, diciamo, eppure anche essa nell'ultima settimana ha un po' risentito. Ma guardate anche Eli Lilly, grande protagonista che però disegna un doppio massimo potenziale, attenzione anche su questi livelli. Questi sono i titoli importanti degli Stati Uniti, ma se noi andiamo a vedere quelli che hanno fatto, diciamo così, nuovi massimi, quindi andiamo a capire dove il mercato sta bazzicando, beh ci troviamo, guardate, Procter & Gamble, S&P Global, ok? Poi ci troviamo AT&T, vedete, tutti i titoli che fanno new high, cioè nuovi massimi, e in realtà che cosa mostrano? Questo è un real estate, quindi siamo nell'immobiliare, questi titoli mostrano che un altro mercato, vedete, ICE, lo vediamo qua, British American Tobacco, tipicamente un anticiclico, no? Questi titoli mostrano che in qualche modo c'è rotazione negli Stati Uniti, si va verso titoli un po' più old economy, titoli che possono fare bene anche in un mercato che dovesse un po' rallentare, e quindi questo deve suscitare un pochino il nostro interesse. Perché ho fatto vedere prima l'America? Beh, perché guardando il nostro film si vede che anche qui c'è stata un po' di debolezza nell'ultima settimana, però il nostro è un mercato un po' meno debole. E perché succede questo? Beh, perché noi ce li abbiamo un po' di quei titoli anticiclici che fanno bene. Guardate, per esempio, questa è A2A, si muove a rialzo, è un titolo di un settore che è assolutamente anticiclico e sensibile a un taglio dei tassi. Stessa cosa succede ad Enel, che si porta sopra l'area dei 7 Euro, molto bene, rompendo una resistenza piuttosto forte. Per certi versi, anche se è in un trend ribassista, anche Erg sembra approssimarsi a un'area che si è superata, potrebbe essere interessante. Ferrari è un po' fuori scala, è un po' fuori asset, è mezzo automotive, mezzo lusso. Ha fatto un breakout interessante, lo sta consolidando anche se con un po' di rialzo. Generali, assicurativo un po' fuori dagli schemi, che si muove sui massimi di periodo molto interessanti. E altri titoli che ancora ci danno quell'idea che i difensivi in questo momento sono forti. Guardate dove si trova Snamret e Gas, livello interessante, rottura della resistenza di breve periodo e chissà magari qualcosa in più. Guardate Terna, bel breakout, diciamo così, del livello che recentemente l'aveva contenuta e chissà, movimento verso 8,15, 8,20, staremo a vedere. Chi continua a non fare bene sono Stellanti, se lo vediamo qua, e guardate STM che tornano sui minimi. Sono i titoli che sì, è vero, hanno tutte e due un po' reagito, ma sono più deboli dell'indice. Quindi non appena l'indice entra un po' in difficoltà, fanno subito, subito, subito fatica. A me piace sempre ricordare, è un anticiclico per eccellenza, essendo un titolo farmaceutico, che se per caso dovessimo vedere sopra 106,5 di Assorin, questo è un titolo che potrebbe ricordarci una specie di minimo arrotondato. Insomma abbiamo visto un po' la situazione, non più grande rialzo, enfasi, grande idilio, ma un mercato che sembra entrare in una fase un po' più pensata, un po' più difficile. Per questa settimana è tutto, alla prossima, ciao!